buongiorno sono daniele bianchi e in questo video vi presento green bio ch 120 un bio trituratore cippatore per uso professionale si tratta di una macchina con un motore vanguard di ben 23 cavalli e movimentazione su cingoli e bio ch 120 riesce a triturare fino a 120 millimetri di diametro di potature in maniera molto molto veloce e con un cipato di grande qualità le dimensioni di ingombro ridotto e la tramoggia ripiegabile facilitano sia trasporto che il rimessaggio ora andiamo a vedere la macchina nel dettaglio partiamo dalla zona di carico la tramoggia ha un imbocco molto ampio parliamo di circa un metro e una parte superiore tutta aperta questo facilita l'operatore nel calco del materiale anche quando il materiale è ingombrante o particolarmente frondoso i comandi di sicurezza sono a portata di mano e sono molto comodi anche la zona di entrata verso il rullo e sistema di taglio ha dimensioni molto generose il materiale viene trasportato all'interno della zona di taglio da un rullo in acciaio dentato molto resistente che ha movimentazione idraulica un operatore può regolare tranquillamente la velocità del rullo con un pratico comando in caso di necessità una centralina antistress legge lo sforzo del motore e quindi regola in automatico la velocità del rullo nel caso in cui il materiale sia particolarmente difficile da lavorare mentre l'ispezione del rullo è possibile da uno sportello posto sopra la macchina il quale della macchina è il tamburo di taglio il sistema di taglio green è particolarmente apprezzato da chi vuole un cippato di qualità quindi molto fine e molto omogeneo ma anche da chi lavora materiale difficile come per esempio palme o urivi la conformazione del tamburo di taglio abbinata al potentissimo motore bicilindico da 23 cavalli crea una fortissima spinta verso la zona di scalco in questo modo si evitano intasamenti anche quando si lavora materiale molto difficile il tubo di scarico è molto ampio abbiamo una base di circa 40 centimetri per venti e all'interno non ci sono strozzature la curva di scarico espelle in materiali con notevole forza a un'altezza di circa 195 centimetri da terra molto pratica è la possibilità di orientare la curva di scarico a 360 gradi e la possibilità di regolare il defrettore per scaricare il cippato per esempio su un camion o comunque dove si è più comodi grazie ai cingoli il vch 120 può essere trasportato facilmente nella zona di utilizzo i cingoli sono idraulici e sono stati pensati e sviluppati per l'utilizzo specifico su questa macchina hanno una lunghezza di 105 centimetri e una carreggiata di 90 centimetri questo garantisce una stabilità e una manovrabilità uniche il battistrada dei cingoli è stato pensato per l'utilizzo sia sui prati che su zone molto impervie la velocità di avanzamento di circa due chilometri e mezzo all'ora essi possono raggiungere pendenze fino al 32 per cento la sensibilità di guida è data anche dalla presenza e dal posizionamento di un unico motore che serve sia per la movimentazione che per il sistema di taglio in questo modo il baricentro si abbassa e i pesi risultano perfettamente bilanciati la tramoggia è ripiegabile in due punti e possiamo ottenere un ingombro tramoggia ripiegata di soli 175 centimetri in altezza è possibile anche smontare la curva di scarico con un'altezza massima che raggiunge solo i 150 centimetri in questo modo è possibile caricare bch 120 anche nei furgoni più piccoli in conclusione bch 120 è una macchina pensata per i professionisti delle portature che vogliono una macchina facilmente trasportabile e manovrabile la potenza del motore e la qualità della costruzione con materiali di eccellenza un assemblaggio made in italy ne fanno una macchina con bassi costi di manutenzione e grande durabilità anche con un utilizzo molto intenso come per tutti i prodotti green è possibile contattare i rivenditori ufficiali e richiedere una prova gratuita e senza impegno per capire toccare con mano le qualità di bch 120 e e e e e e e e